Il mio messaggio semplice che sto portando avanti è semplicemente quello che la Simonelli editore è una casa editrice che mira soltanto a pareggiare i conti e non mira soprattutto al profitto. Per carità, se c'è del profitto, le rarissime volte in cui ci può essere del profitto, questo viene completamente reinvestito per portare avanti e sviluppare la casa editrice. E allora di fronte ad una realtà del genere siamo molto strani di fronte a tutte le altre case editrici che ne inventano mille di furbate pur di rapinare qualche soldo a destra e a manca. Noi invece offriamo idee, offriamo cultura, offriamo sperimentazioni nell'ambito di quella che è l'editoria elettronica e offriamo spazio a chi, indipendentemente dalla sua notorietà, dimostra di avere del talento. Naturalmente dobbiamo far quadrare i conti e allora cerchiamo anche delle persone le quali vogliano sostenere un'impresa la quale non mira al profitto e alla speculazione, ma mira a portare avanti un discorso di comunicazione, di divulgazione culturale e di scoperta di autentici talenti. Grazie a tutti.